30 di mattina siamo alla posta e la scaletta sta per essere terminata cantiere scuola guardate che da guardare che bello i margheritesi i cittadini margheritesi hanno costruito una scaletta che si trova dove c'è il mercato di un lato e dell'altro lato alla posta di santa margherita di belice guardate che bella bellissima stanno per terminare cantiere scuola margheritesi sono orgoglioso dei margheritesi ragazzi abbiamo costruito una scaletta in legno grazie sono contento anch'io io li ho aiutati alla posta di santa margherita bello bello bello